Siamo contentissimi di questa iniziativa, siamo molto grati al segretario generale che ha introdotto la conversazione che si è aperta con il libro sul tavolo. È un piacere ascoltare i due commentatori del libro, è stato molto interessante vedere Francesco di Teodoro che purtroppo è già partito, come aveva il libro in mano per così dire, come era già una cosa che si usa discutendo su un tema che non è stato stranamente battuto dalla critica fino adesso. Per quello la nostra partenza non era tanto facile, perché come dico nella conclusione che lui vuole introduttiva, però scritta nella notte prima di stampare per quello che puoi fare. Infatti era più esclusione di inclusione, perché il materiale è infinito. Abbiamo visto con le due relazioni, presentazioni, commenti, critiche che abbiamo sentito adesso, in quali direzioni si possa aprire l'orizzonte amplissimo, quasi infinito del tema. Mi è piaciuto molto il modo in cui Francesco di Teodoro ha aperto il libro in vari punti, ha cercato di creare relazioni tra i singoli reperti. Da noi una scelta che devo anche dire, per quello sono molto grato anche a Ceriana di aver lavorato in un modo complementare con molti dettagli, perché una delle scelte che avete notato è che dovevamo, dato che non c'è un libro sul tema, sul tavolo, dovevamo partire con gli insiemi, non potevamo partire con i dettagli, far vedere qualche capitello, qualche altro dettaglio dell'architettura, no? Che invece per altri volumi, potete fare voi due insieme un volume che poi noi commentiamo, no perché il materiale c'è, insomma ecco. Il punto è proprio quello che bisogna ovviamente approfondire, in senso di, come ha dimostrato lei, in senso di partire non tanto dalla materialità dell'architettura, ma quanto dalla materialità della pittura stessa, no? E poi vedere dove arriva, dove vuole arrivare, dove non va, come dire, affiancarsi a delle architetture reali, ma quando segue delle strade proprie, no? E ovviamente potremmo anche studiare il tema da un punto leggermente opposto, parlando della pitturalità dell'architettura, no? Dove l'architettura è grafica, dove l'architettura è disegno, dove l'architettura è un... si presenta nella città come immagine, in senso anche di prospettive, ricordiamo gli sperimenti di Modeleschi, no? In cui mette gli movimenti di Firenze un po' a disposizione dei suoi giochi prospettici, considerando lo spazio della città come icona, in qualche modo, come immagine, no? E di Teodoro ha varie volte citato il partistero di Firenze, che in qualche modo è una tale icona, anche in riferimento a, non so, al Tempio di Gerusalemme, al Pantheon Romano e altre realtà costruite o immaginate come costruite in questo percorso. Quello mi sembrava molto bello di vedere come avete, infatti, non dico superato il volume, ma usato il volume per pensare oltre il volume. E quello è esattamente l'intento della operazione che abbiamo fatto, Sabine, e io e Sabine insieme, però in realtà è un volume che non corrisponde a una tipologia classica del volume collettivo, abbiamo sempre detto che non è un volume collettivo, ma ovviamente è un volume collettivo di un altro genere, cioè non la classica collezione di saggi con poi un apparato figurativo alla fine, ma piuttosto creando questo Atlante e accangiando all'Atlante una piccola serie di disagi in dialogo, perché siamo incontrati con gli autori, abbiamo discusso e abbiamo cercato di individuare dei temi forti che si seguono e altri che dovevamo purtroppo escludere, però speriamo che sia un'iniziativa che poi avrà un seguito anche da noi stessi in qualche modo. Devo dire, adesso parlo in voi caduta libera, devo anche ringraziare la casa editrice Panini che ha sopportato tutta la complessità della cosa, perché dovete sapere, è più semplice pubblicare un dettaglio di un immagine, di avere un bel insieme con la cornice dello stato attuale di restauro. Credo che siamo riusciti a 98% di questa operazione, ovviamente qualche piccolo punto di critica accettiamo. Generalmente abbiamo le immagini più fresche sul tavolo, nel loro insieme, che danno un po' di più di il taglio detto senza cornice di alcune cose. Per quello il punto di partenza, il punto centrale dell'operazione è l'atlante figurativo dell'architettura picta e qui siamo molto molto lieti di ringraziare Irene Ciloni e Steve Kleiter per il lavoro eroico di creare queste didascalie che accompagnano le singole immagini. Così il volume può essere visto da lei, da lei, da lei, da qualsiasi persona senza affrontare i nostri pensieri volendo, ma cercando delle strade o dei percorsi diversi, anche ovviamente parlando delle lacune o delle scelte che aprono poi orizzonti che abbiamo cercato di accompagnare il lettore o accompagnare e portare il lettore a queste tematiche. Bene, non vorrei entrare in merito a quello che abbiamo sentito perché ovviamente mi piacerebbe tantissimo di commentare un punto o l'altro. Forse uno dei punti più forti che sono stati detti da parte di Francesco Di Teodoro era che alla fine non si nota uno sviluppo. Questo è un tema molto interessante perché infatti abbiamo qui nel volume un incontro, un dialogo tra storici della cittura tout court che sono ovviamente ignoranti verso la pittura e altri che sono più storici della pittura non totalmente ignoranti verso la cittura. E questo incontro porta a dei modelli storiografici completamente diversi, non è triviale, è complesso perché se Di Teodoro dice che alla fine quello che conta è il singolo artista io sono d'accordo, ma quello non lo dice, non c'è, ma lo rappresento. Quello non lo dice per smantelare il volume, ma al contrario per far capire che il volume si guarda come una serie ricchissima di sperimenti artistici con delle condizioni complesse cioè orientarsi verso la prospettiva, orientarsi verso la pittura stessa orientarsi verso il corpo editorico come ha fatto lei sistematicamente il colore, le luci, indicazioni di persona e di spazio editorico quello non puoi descrivere in chiave di un percorso stilistico classico perché sono troppi fattori che permettono all'artista in un momento creativissimo in cui l'artista si posiziona da risposte nella interpittualità da un lato ma anche in riferimento all'eccrittura o alle altre realtà artistiche del periodo. Così arriviamo a una serie lunga di soluzioni artistiche che a volte si commentano a volte come tipo mantieni abbellini eccetera eccetera come lei ha mostrato, no? E a volte sono anche delle soluzioni singole che non trovano un seguito però sono in sé valide e interessanti, no? Per quello io vedo questo periodo da Giotto a Veronese come l'abbiamo chiamato in una lettura romana, toscana, veneta come è stato detto dall'inizio all'inizio lo vedo come un grande periodo sperimentale, no? In cui la pittura dell'architettura diventa un campo molto particolare che abbiamo voluto aprire o riaprire nuovamente perché non è stato veramente fatto finora però speriamo che quello avrà un seguito che può andare da Veronese agli anni 30 all'esposizione dell'architettura come diceva lei 33, 36 eccetera e anche oltre fino all'architettura dei giovani italiani degli anni 80, 90, no? Da un lato ma può anche aprire altre realtà geografiche cioè Sud Italia dal, come dire da Monreale, no? Fino al barocco napoletano, no? Per rispettare così cioè qui le possibilità di andare avanti o andare oltre quel piccolo corpo o piccolo atlante che abbiamo voluto presentare nel volume il potenziale c'è e speriamo che quello nostro sperimento per così dire questo nostro dialogo con i nostri autori anche quale che sia il Benelli anche presente ovviamente questo Fluidpol no? E Frobele quello è stato uno sperimento di cui speriamo che si apre una nuova strada di studio in questa direzione ovviamente e infine ringrazio molto Sabine che non solo ha sopportato le mie abbiamo delle temporalità diverse ma anche delle spazialità diverse ma complesse le sue come sono complesse le mie ma siamo lo stesso riusciti a fare questo volume bene e siamo ancora amici per quello va tutto bene la storia ha un lieto fine grazie anche anche a voi della prima fila va bene tutto quello che volevo dire mi fermo qua sono entusiasta di questo pomeriggio e lascio la parola a te Sabine e purtroppo mi dileguo un po' così passiamo la parola a Sabine Frommel grazie a tutti